Ci siamo fatti una passeggiata, a dire il vero, una lunga passeggiata in mezzo a strade in cui è facile perdersi, così come è successo a noi. E nonostante tutto siamo riusciti a raggiungere con trada Cuddia. Qui c'è il canile consortile che è già pronto da almeno sei mesi e che non viene ancora aperto. Il Comune di Trapani mantiene 300 cani in un canile in provincia di Caltanissetta, con un costo medio di poco più di un euro al giorno per ogni cane. Fatevi un po' i conti di quanto spenta il Comune di Trapani avendo una struttura che è proprio qui, in un posto difficile da raggiungere. Di questo parleremo questa sera nella nostra trasmissione a Gorà. Lo faremo con gli ospiti studio, vi mostreremo le immagini che siamo riusciti a catturare dall'esterno di questo posto che rischia di essere vandalizzato ma rischia anche di restare una cattedrale nel deserto.